Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Un altro incidente mortale sulle strade del Tarantino, questa notte sulla strada provinciale 25 all'altezza di Motola, una Fiat 500 per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo ed è finita fuoristrada. Le cinque ragazze all'interno del mezzo sono state immediatamente trasportate in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, una di loro purtroppo non ce l'ha fatta ed è morta a soli 18 anni. Un'altra ragazza sarebbe invece in prognosi riservata, mentre le altre pur avendo riportato ferite sarebbero fuori pericolo. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i carabinieri di Massafra e i vigili del fuoco. Nell'incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano ha accettato questa mattina le dimissioni dell'assessore ai trasporti Anita Mauro Di Noia tra gli indagati per corruzione elettorale nell'ambito dell'inchiesta che questa mattina ha portato all'esecuzione di 10 misure cautelari. Tra le persone finite agli arresti domiciliari anche il marito dell'assessore Mauro Di Noia Sandro Cataldo e il sindaco di Trigiano Antonio Donatelli. L'indagine è coordinata dalla procura ordinaria e non viene contestato il voto mafioso. Secondo quanto accertato un'associazione finalizzata alla corruzione elettorale avrebbe permesso di comprare voti anche al prezzo di 50 euro l'uno durante le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 nel comune di Grumo Appula e del 3 e 4 ottobre 2021 nel comune di Trigiano in provincia di Bari. E' stata ritrovata Ramona Zinta, la donna di 39 anni originaria della Lettonia di cui erano in corso le ricerche a Ginosa. A comunicarlo sulla sua pagina Facebook il sindaco Vito Parisi che nella giornata di ieri aveva condiviso la descrizione della donna e convocato un tavolo di coordinamento tecnico con la protezione civile, i carabinieri e la polizia per rintracciare la 39enne di cui non si avevano più notizie dalla sera del 2 aprile. Al momento della scomparsa la Zinta stava facendo un giorno di prova come cameriera presso la pizzeria La Pescarella da cui poi si è allontanata. L'appello del sindaco Parisi sui social aveva richiamato sulla vicenda l'attenzione degli utenti che avevano anche ventilato l'ipotesi di un presunto allontanamento volontario da parte della donna. Questa mattina però la bella notizia, la 39enne sarebbe in buone condizioni ed è stata affidata ai sanitari per verificarne lo Stato generale di salute. Il risultato è irregolare oltre il 50% delle panetterie e pasticcerie del Tarantino sottoposte a controlli da parte dei carabinieri del NAS di Taranto durante le festività pasquali. In 12 casi sono stati disposti addirittura provvedimenti di chiusura o sospensione dell'attività commerciale o produttiva per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. I controlli dei NAS finalizzati a tutelare la sicurezza degli alimenti e la salute dei consumatori sono stati estesi a tutte le fasi di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti tipici, sia a livello artigianale che industriale, consentendo di spezionare circa 61 imprese, delle quali 32 sono risultate irregolari. Contestate oltre 15 violazioni amministrative per un ammontare di circa 20.000 euro di sanzioni pecuniarie. Nel corso delle verifiche inoltre sono stati sequestrati circa 250 kg di prodotti dolciari e materie prime, in quanto privi di qualsiasi informazione sulla tracciabilità alimentare. Una settimana di assemblee sindacali per la Wilm Taranto in vista della presentazione dell'ipotesi della piattaforma per il rinnovo del CCNL metalmeccanico, ad illustrare le preoccupazioni dei dipendenti dello stabilimento siderurgico tarantino e dell'appalto e il segretario generale del sindacato Davide Sperti. A parte illustrare la piattaforma che per noi tocca argomenti salienti, fondamentali, noi vogliamo con questo rinnovo contrattuale, come sempre fare da apripista nel mondo confederale, quindi andare a contribuire per una riprogettazione proprio dell'intero sistema sociale. È ora di aumentare in maniera congrua i salari, è ora anche di riformare l'orario di lavoro, prendendo spunto anche da tanti esempi di riformismo e sperimentazione in campo europeo. Però ovviamente non poteva mancare un aggiornamento sulla situazione dello stabilimento. I lavoratori sono ancora molto preoccupati, sono anche stanchi, c'è un senso di frustrazione, logorio, stanchezza, anche delusione e da anni che vige questo senso di sconfitto. Abbiamo sempre detto che il nemico numero uno non era, anche prima Arcelor Mittal, il nemico pubblico numero uno è il pericolo della rassegnazione. Oggi abbiamo condiviso però dei punti cruciali. Questo è un momento difficile, complicato, perché l'amministrazione straordinaria non è mai una scelta semplice, è una scelta drammatica, non l'abbiamo mai caldeggiata, ma sappiamo che era l'unica condizione possibile per estromettere dagli impianti chi aveva interessi totalmente divergenti rispetto a quelli delle migliaia di vite umane impattate da questa vergogna nazionale. Adesso non esistono uomini della provvidenza, non lo sapevamo, c'è una mancanza totale di liquidità, gli impianti sono in stato di abbandono, c'è una cassa integrazione che continua a mortificare la dignità delle persone. Lo stesso dicasi per il sistema degli appalti, ci sono i lavoratori che dopo aver passato un Natale triste hanno passato anche una Pasqua senza ricevere un euro, perché c'è stato ritardo nell'autorizzazione della cassa integrazione. E c'è incertezza per i lavoratori in amministrazione straordinaria. Però deve essere un momento di ricostruzione prima sociale, poi industriale e ambientale. E per farlo bisogna restare uniti, bisogna smetterla, parlo della parte governativa, con la rincorsa della politica dell'Islogan, e trovare finalmente una soluzione per tutte le persone, perché come abbiamo detto, dopo anni di vergogna, è necessario rimettere al centro le persone. Per noi il destino delle persone è più importante di quello della siderurgia nazionale. Infine, a proposito dell'ipotesi di un aumento dei dipendenti in cassa integrazione, il segretario generale della Wilm Taranto afferma non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione in merito. Grandissimo successo questa mattina a Taranto per la Marcia Blu per la consapevolezza sull'autismo alla grande manifestazione di sensibilizzazione della scuola Martellotta, nonché evento conclusivo del progetto sport civico della WISP Taranto. Hanno partecipato quasi 2000 persone, che dal plesso di Corso Annibale hanno raggiunto il Parco Iannelli, protagonista assoluta dell'evento l'inclusione tra musica, sport e tanti ospiti. Non sono solo felice, ma orgogliosissimo della Martellotta, di questa grande comunità che ha il grido dell'unione, dell'inclusione, dell'uguaglianza, detto di sì come sempre. Sono altrettanto speranzoso per il futuro. Vedere occhi lucidi in bambini che in teneretà, dai 3 ai 14 anni, con i loro nastrini blu, dicono sì alla inclusione, della consapevolezza sull'autismo, mi fa ben sperare per le generazioni future. Noi questo dobbiamo fare, noi siamo la scuola, noi creiamo una generazione che sia più consapevole. Probabilmente 40 anni fa queste cose non succedevano, probabilmente quello che facciamo oggi avrà i suoi echi nel futuro. Ed è questo che un dirigente scolastico, una persona che bada ai bambini deve pensare. Quindi ringrazio tutti alla comunità, i genitori, i bambini, i docenti, coloro i quali ci sono stati vicini, e non ultimo il grande progetto sport civico con la WISP, di mainstreaming, che ha donato questo nuovo cuore, questo nuovo polmone verde a Taranto II che ne aveva tanto bisogno. Oggi i genitori hanno visto che possono venire qui a qualsiasi momento, coloro i bambini normodotati o diversamente abili, e che possono stare tutti insieme e camminare mano con la mano, affinché si crei i presupposti per una società diversa, una società che veda la diversità come una vera risorsa e non come solo un peso, un costo sociale. Questa mattina il seminario di alta specializzazione sul programma Horizon Europe organizzato da ITS Logistica Puglia nell'auditorium dell'Asla di Taranto. Con una dotazione finanziaria complessiva di 96 miliardi di euro e una durata di 7 anni, Horizon Europe costituisce una grande opportunità di ammodernamento per i territori e di finanziamento per imprese denti, nel campo della ricerca e dell'innovazione. Questo evento di chiusura di questo progetto di formazione è importantissimo per il Comune di Taranto che già da diversi anni con l'amministrazione Melucci è orientato nella formazione anche tecnologica e nel reclutamento dei fondi europei, soprattutto per sostenere, appunto, per l'ecosostenibilità ambientale e sociale. È un orientamento dell'amministrazione che naturalmente con diversi partner, con 30 partner sia locali che nazionali, consente di avere accesso ai fondi e soprattutto di sfruttare i fondi europei per migliorare la sostenibilità. Il programma Horizon Europe, innanzitutto, è il più grande programma mondiale di supporto all'innovazione e alla ricerca. È un programma che in Italia sfruttiamo forse non abbastanza, soprattutto in alcune misure, soprattutto nelle misure che finanziano la ricerca e l'innovazione delle imprese, delle start-up e delle piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura del sistema produttivo nazionale. Dobbiamo lavorare per cercare di essere più efficaci nell'accesso a questo tipo di finanziamenti. Bisogna capire quali sono le logiche con le quali questi finanziamenti vengono erogati. Per dare un numero, la sola misura rivolta al finanziamento delle start-up e alle imprese vale 10 miliardi di euro fino al 2027. Le piccole e medie imprese italiane sono quindicesime in Europa per capacità di accesso a questi fondi. Vuol dire che non partecipiamo abbastanza, che non aiutiamo abbastanza le piccole imprese a capire come fare ad innovare. Senza innovazione non ci può essere crescita, senza ricerca non ci può essere innovazione. Le università, i centri di ricerca e le imprese devono capire che stiamo lavorando insieme in un unico sistema e dobbiamo aiutare a farlo in modo più efficace per far crescere i nostri territori. Si intitola Non avrò bisogno di fuggire lo spettacolo teatrale ideato e messo in scena dalle detenute del carcere Carmelo Magli di Taranto che in questi mesi hanno preso parte al laboratorio teatrale CIT-CIT. Nel pomeriggio di ieri, presso Palazzo Ulmo a Taranto Vecchia, la performance intermedia a cui è seguito un aperitivo sociale durante il quale è stato visionato il materiale audiovisivo prodotto durante il percorso artistico. Siamo felici come amministrazione comunale di sostenere l'associazione CIT-CIT che usa il teatro come atto politico per ridare dignità alle detenute della casa circondariale Carmelo Magli di Taranto. Oggi c'è stato un evento bellissimo all'interno appunto della casa circondariale dove le ragazze hanno potuto esprimere con il loro lavoro teatrale tutte le proprie emozioni. È stato un momento molto intenso e molto forte dove appunto tutto il loro grido di dolore e la voglia di riscatto è emersa e cercheremo di comunicare questo grido di dolore appunto anche fuori a tutti i cittadini della città di Taranto e quindi invoglio tutti quanti a seguire l'associazione e ad affacciarsi a questo mondo dove appunto la cultura può essere uno strumento di riscatto sociale. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto. Al prossimo aggiornamento. Al prossimo aggiornamento.